Non solo Crema, ma anche Capralba, Casaletto Vaprio e Campagnola Cremasca sono diversi i paesi attraversati ogni giorno dai trasporti pesanti che raggiungono l'autostrada o la zona industriale cremasca. Dopo il tavolo in provincia con il presidente Mirko Signoroni è stata sottolineata l'importanza di quest'opera per il territorio e i fondi di 7 milioni di euro. Tante sono ancora le incertezze però sui progetti. I comuni devono fare il loro, anzi devo proprio dire che non più tardi di qualche giorno fa mi sono anche manifestato pubblicamente rispetto al fatto che il territorio cremasco conta per davvero nella misura in cui i sindaci possono deliberare almeno a maggioranza qualificata il percorso ad esempio della tangenzialina. Perché se i comuni stanno insieme e quando devono realizzare qualche cosa, basta che un comune e due non siano d'accordo, vorrei capire che senso ha tenere insieme evidentemente un territorio. Questo è un problema di fondo, anzi probabilmente siamo molto in ritardo. Quindi il mio interesse è che il comune di Crema faccia la sua parte fino in fondo perché insieme alla provincia diano una soluzione definitiva alla tangenzialina. Io ritengo che per contare il territorio deve anche poter decidere e non decidere invitando, decidendo e per decidere deve darsi un regolamento se è possibile sul piano giuridico con il quale a maggioranza qualificata i sindaci possano decidere. E chi non è d'accordo evidentemente si deve attenere perché l'interesse pubblico e generale è sempre più importante dell'interesse particolare. L'Unione fa la forza e in questo caso anche un paese più sicuro per i cittadini.